Quello che ci ha colpito di più e che poi ha fatto nascere anche questo applauso spontaneo è la madonnina di Milano, un po' invidiosa di quella di Arezzo, della Madonna del Conforte. Sì, sono battute che si dicono, è difficile che i milanesi siano invidiosi di qualcun altro perché pensano sempre di essere i migliori, però certamente la devozione che c'è ad Arezzo mi ha molto colpito, ho ammirato molto la presenza, il modo di pregare. L'arcivescovo metropolita di Milano, Mario Del Pini, oggi ad Arezzo per presiedere le celebrazioni dedicate alla Madonna del Conforte, rimane particolarmente colpito dalla devozione degli aretini. Immagine mariana che salvò Arezzo dal terremoto oggi viene ricordata appunto da un'intera comunità che ha affollato il Duomo. Sì, da Lombardo posso dire anch'io, o mia bella madonnina, ti te dominet Milan, va bene, però posso dire allora, prendendo spunto da questo, che la nostra Madonna del Conforto veglia su tutta la città e su tutta la nostra diocesi. E la partecipazione dei fedeli, della gente a questa festa è il segno che la gente lo sa, che se ne accorge, che c'è lo sguardo di protezione, di bellezza di Maria per tutti noi e oggi ci affidiamo di nuovo a lei. La messa pontificale è stata concelebrata dal cardinale Gualtiero Bassetti. Insieme a lui è anche il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita di Firenze e i vescovi della Toscana. Un messaggio di unità, di grande sentimento, di passato e di futuro. La città si stringe sempre accanto alla sua Madonna del Conforto ed è un'identità religiosa ma anche laica. Presente anche Ernst Simoni, cardinale albanese della Diaconia di Santa Maria della Scala, definito da Papa Francesco martire vivente della dittatura in Albania. Rimasto per 18 anni ai lavori forzati due volte, condannato a morte dal regime comunista albanese prima che cadesse, Simoni ha lavorato nelle fogne di Scutari, oggi ha 96 anni e vive a Firenze. Quanto dolore c'è però nel vedere ancora le guerre nel mondo? Dobbiamo pregare, pregare, pregare che gli uomini si convertano e questo sangue innocente che si versa nel mondo sia la nostra protezione, sia il nostro perdono che la Santissima Madonna del Cielo come sempre parteca il mondo, la fraternità umana e tutti gli uomini per avere la fraternanza, amore e il sorriso del Spirito e del cuore di tutti gli uomini.